...e dopo il consigliere Luce, sul secondo grado al 12 del giorno, che è in discussione, il secondo grado al 12 del giorno. Sommettamente ho lasciato che il consigliere Paese terminasse l'intervento per ricordare a tutti noi che è in discussione il secondo grado al 12 del giorno. C'è la situazione che il regolamento ci costrò in servizio. Allora, dono la domanda per rilasciare a una dirigente di data. Presidente, ha chiesto la parola al consigliere, avanti a me, ha iniziato a prendere la parola, ha iniziato a prendere la parola, il secondo grado, le istruzioni del secondo grado. Presidente, cosa intervento, io lo dico, la parola al 12 del giorno. E prima di stare alla parola, è in istruzioni del secondo grado, faccio prima con l'azione del dirigente del grado. Dirigente del grado, è un'azione del sostegno del grado, è un'azione del sostegno del grado. Presidente, è iniziato a prendere la parola, Presidente, è iniziato a prendere la parola, ha capito? Presidente, è iniziato a prendere la parola, non faccio il grado, 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 non faccio il grado. Presidente, è iniziato a prendere la parola, non faccio il grado, non faccio il grado, non faccio il grado, non faccio il grado, non faccio il grado. Presidente, è iniziato a prendere la parola, non faccio il grado, 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 non faccio il Questo non è un obiettivo, un'azienda. Lei ha chiesto la parola al consigliere Emaneo e al consigliere Buccio. Lo dico al primo. Ha capito? Allora, cosa sarà questo momento? Lo scorderà? Lei conversiti questo momento, ma dopo fare la sua relazione? Cioè, la parola al consigliere Buccio. Un secondo programma durante il giorno. Presidente, questo punto io intervento solo per spigmatizzare, perché non ho più nulla da dire. Il comportamento è a poco una cosa. Lei rappresenta, integra, interna della vettenza dell'unità. Lei ha dato la parola al consigliere Buccio e ha detto che dopo il consigliere Buccio sarebbe venuto il consigliere Buccio. Ha chiesto, poi, successivamente, di intervenire al consigliere Buccio. Ancora una volta che il campo è pazioso che non venisce ad Assemblea di discutere dei diritti e di questo siamo cercando di discutere dei diritti. Quindi non ho più veramente nulla da dire sul campo del lì. Grazie a tutti.